Maionese di acqua faba. Per chi non lo sapesse, l'acqua faba è l'acqua di conservazione dei ceci. Unisco del succo di limone e la punta di un cucchiaino di curcuma. Inizio a frullare aggiungendo l'olio di semi di gerasole a filo, poco per volta fino a quando la crema non si addenserà. Un cucchiaino di senape e sale a piacere. Un'altra frullata ed eccola qui pronta.